Allora eravamo arrivati a rustico caldo, dobbiamo fare un bello sformato di melezana con salsa al pepato fresco Certo meglio delle pinzillacchie, delle rane, la caponata tipica, la caponata ci sta A caponatina si fa di caponatina, no caponatina di caponatina, noi la chiamiamo caponata, va bene Poi facciamo, ancora? Sì, tu la fai dubbare, se l'hanno detto Un tortino di verdure e gli facciamo una glassa allo zafferano, ma sai quanto costa? Neldi scrivi, a compazzurare gli clarissi o zafferano, e poi facciamo una ginella di spinaci con un po' di fontina e carotte Perché i carotti si vede da clarissare puliti Vabbè fontina non costa assai, si può fare Scrivi una, scrivi, due, due primi Eh, vai, vai, vai che sono curioso, quali saranno questi due primi Maccheroncini freschi con ragù bianco Buon Buon Vabbè ragù bianco è scelto, è sempre ragù E poi ci mettiamo un pochettino di funghi e salsiccia Però, spagniamo da salsiccia e mettiamo i funghi? I funghi con la pioggia e i succhi di caccia E poi facciamo dei ravioli, belli questi ravioli in salsa di formato E perplesso E ci mettiamo le noci e lo specchio croccante Ma sembra buono, lo specchio croccante Ma sembra buono, lo specchio croccante Ma sembra buono, lo specchio croccante Ma dai, vieni 5 minuti Ti vieni a tutti questi cosi che mi stai facendo fare Deve croccantinare, si può dire croccantinare Ah, devi cucinare tu, vabbè, vai, vai Siamo in secondo In secondo uno In chi c'ha su benissimo Su questo cuore franciato Facciamo Vediamo un maialino Un maialino re Quindi lo chiamiamo un reare di maialino E' più chic E' scelto In borchetta con patate gratinate Ma avanti Oppure le vuoi riscrivere patate gratinate Ah ma ma le patate posso portarle io che le vendo Ti porto io i patati Le patate gratinate Gratinate Ma siccome ti voglio così gratinare I patati li porto io comunque salvo Non mi facciamo da un dolce Certo E' carnevale Chiacchiere E frittelle dolci Ah va Ragazzi è finito E' finita tra poco col prezzo di sto menù del conto